Il 27 gennaio, una giornata per parare di prevenzione a 360 gradi partendo dalla corretta alimentazione. Come si strutturerà questa giornata? All'elogio del grano comincerà la giornata verso le 9. La mattina proseguirà con l'intervento di circa 10 o 15 classi delle varie scuole. Durante la mattinata andranno anche vicino con una dietologa dove ci sono i banchi proprio del chilometro zero, delle logge e lì potranno i ragazzi parlare con gli esperti. Sicuramente per conoscere anche il diabete. Chiaramente il trucco è questo, cerchiamo di rendere gradevole un discorso che gradevole in realtà non lo è. Però diciamo che lo faremo dolcemente. Con tutta la diabetologia di Arezzo proseguiranno nel pomeriggio con altri esperti in nefrologia eccetera che diranno la prevenzione, dedicata alla prevenzione. E poi ci sarà un presidio sanitario dove tutti gli aretini che vorranno potranno fare il controllo glicemico, potranno parlare con alcuni esperti in dietologia e proseguirà così insomma fino alle 6. Poi si concluderà questa giornata qui alla Casa delle Energie. Sì, io sono molto contento di questo evento visto che ci sono delle tematiche di respiro nazionale nonché anche dei partecipanti di respiro nazionale quindi per me e per tutta la struttura è un grande piacere. Diciamo che le tematiche che sono trattate all'interno di questo evento sono anche care al progetto di Casa delle Energie. Noi diamo un particolare sguardo all'ambiente, alla salute e ovviamente anche il buffet che si svolgerà qui sarà dedicato allo slow food con prodotti del territorio quindi verso anche un'importanza e uno sguardo sulle tematiche a chilometro zero e sugli alimenti sani che fortunatamente la nostra terra ancora è in grado di offrire. Sì, quindi.